Fabio Rubio, un'iniziativa incredibile, elettroludica nel territorio marsicano, come nasce quest'idea così particolare? L'idea nasce tanti anni fa da un gruppo di amici che erano appassionati di videogiochi, computer e tecnologia. Noi siamo cresciuti e con noi sono diventati anche loro un po' anziani e quindi sono diventati dei retro gaming e che adesso la cultura del retro gaming e del retro computing è molto molto avanzata in Europa e negli Stati Uniti e in particolare basta considerare che gli oggetti più venduti richiamano i famosissimi Commodore 64, ecco Pac-Man, quello è l'originale del 1980 e così via. Noi nasciamo proprio per sviluppare, restaurare e far conoscere alle nuove generazioni la cultura delle sale giochi, dei flipper, degli arcade, dei computer, dei console di una volta. Rubio, parliamo proprio di quello che è il target, che poi non è così ristretto perché io ricordo anche della mia generazione che preferrei chiamare diversamente giovane che il flipper era per noi un punto di aggregazione nei famosi biliardi rionali, oggi? Sì, oggi noi cerchiamo proprio di fare questo, con questa struttura che ha un'area museale oltre alle aree giochi e alle aree espositive, cerchiamo di riunire i ragazzi di oggi che purtroppo viaggiano un po' singoli sul telefonino come quello che diceva lei con le culture precedenti, le generazioni precedenti perché il flipper e così come i biliardi rionali come ha detto era un'aggregazione, giocare e insieme è aggregarsi, scherzare e fare tutto in un ambiente protetto, in un ambiente senza alcol, in un ambiente dove non si può fumare, in un ambiente dove si è controllati, dove ci sono giochi per bambini e che i giochi sono sempre un punto di cultura e di aggregazione e si passa dalle aree espositive alle sale interattive. Lei ha messo a nostra disposizione la possibilità di vederla, una delle sale espositive dove veramente è il regno dei giocatori questo. Allora, 26 e 27 si aprono i battenti, il gioco è aperto a chiunque può accedere? Sì, i giochi sono tutti gratuiti ed illimitati, sia i flipper, ecco i flipper che lei ha citato, questi sono flipper degli anni 80 e 90, sia quelli degli anni 70 fino ad arrivare agli anni 2000. Ribadisco, scusate se mi ripeto, che sono tutti in gioco, sia i gabbinati che i flipper che le console in prova che i computer, in modo gratuito e assolutamente illimitato. Qual è il pezzo più antico dell'esposizione? Io parlo di flipper, mi permette, perché è quello più vicino ai miei ricordi. Sì, il flipper più antico dell'esposizione si chiama Jive Time, è un flipper degli anni 60-1968, mentre il pezzo più antico dei videogiochi è il primo videogioco di tutti i tempi, che è il Nutting Computer Space del 1971, che quest'anno farà 50 anni. Io ci provo, quanti pezzi sono in esposizione? Allora, in esposizione e in gioco ci sono centinaia e centinaia di pezzi. Per essere un po' più precisi, più di 100 flipper, più di 200 arcade, più di 400 fra console e computer. Ce ne è veramente per tutti i gusti. Sarà un museo con esposizione permanente o verrà dopo l'inaugurazione, quindi dopo le giornate così ricche di avvenimenti del 27 verrà chiuso? No, il museo e l'elettroludica, la nostra associazione, rimarrà sempre aperta dal 26 giugno in poi, secondo il calendario e le date che si è pubblicato, quindi per ben sei giorni a settimana e tutto rimarrà gratuito, l'utilizzo dei giochi e ovviamente si potrà pagare la quota associativa e l'ingresso. Però il concetto è anche quello di far avvicinare sia le nuove generazioni ad un intrattenimento positivo e culturale. E noi faremo anche in queste giornate degli eventi musicali che sono importanti perché legano appunto con la cultura dell'intrattenimento elettronico, passa anche per la musica elettronica, quindi ci saranno degli incontri musicali di musica elettronica con sax, pianoforte, addirittura verranno usati dei videogiochi che si chiama in particolare il Game Boy proprio per produrre musica. Fabio Rubio, si arriva a un'inaugurazione e a un museo perché in fondo si resta sempre bambini? Assolutamente sì, tutti noi nasciamo con questi videogiochi, nasciamo come ha detto lei con gli incontri di ragazzi e di adolescenti nelle sale giochi e cerchiamo di non perdere questa questa nostra voglia di divertirci e cercando di tramandarla e di far vedere anche i padri che adesso hanno dei bambini piccoli come si divertivano ai loro tempi e devo dire che le prove che abbiamo fatto, i ragazzi anche giovanissimi, anche di pochi anni apprezzano tantissimo questa modalità di gioco soprattutto perché si divertono in più persone perché qui quasi tutti i giochi sono in due, in tre, anche in quattro, fino a sei persone contemporaneamente ovviamente nel pieno rispetto delle norme Covid in questo periodo, potranno giocare e interagire, questa è la cosa più bella. Un flipper può apparire ai giovani di oggi che hanno una velocità manuale che è veramente disarmante nel vederli obsoleti per la semplicità con cui è la modalità del gioco del flipper. Allora guardi, questo è vero perché loro scrivono dei messaggi a una rapidità incredibile e vanno sugli smartphone a una rapidità incredibile, però la coordinazione psicomotoria che danno questi giochi come i giochi di guida e i flipper come ha detto lei o gli arcade non è così scontata, loro trovano molta difficoltà perché ritengono difficili, adesso c'è tutto, è avere tutto subito con i giochi più famosi che si hanno sul telefonino, sono immediati. Questi giochi non sono facili per la nuova generazione, però è anche quello, è lo stimolo di andare avanti e fa parte appunto dell'intrattenimento stesso, questo andare avanti e condividere. Tutto ciò che lei vede è sempre illimitato, quindi tutti i giochi sono in modo gratuito e è illimitato, si preme un tasto e il gioco inizia, si avvia. Vi aspettate un'affluenza immagino ad alto livello, ma credo con le problematiche anche della recettività del territorio, un'iniziativa di così ampio spettro per l'accoglienza avrà sicuramente dei problemi. Noi abbiamo già contattato quasi tutte le strutture ricettive del territorio, abbiamo bloccato quello che potevamo bloccare perché fino a, ricordiamoci anche il problema che fino a un mese fa neanche loro, poverini, sapevano chi poteva rimanere aperto. Noi siamo passati brevemente in alcune zone dell'Abruzzo dal rosso al bianco in poche settimane e questo è un problema, sì. Noi speriamo che ci sarà un grande afflusso, ci sono prenotazioni da tutte le parti d'Italia e siamo contenti e come ha visto dal programma molto fitto delle cerimonie e degli eventi e delle conferenze che sono più di 12 incontri, ci sono anche i migliori e più famosi esperti del settore non solo videoludico ma ad esempio dei flipper e dell'intrattenimento d'Italia e questo secondo noi amplierà molto il target di riferimento non solo agli appassionati che li conoscono ma anche semplicemente ai curiosi e ovviamente cercheremo anche con le nuove tecnologie di dare streaming tutte le nostre incontri e manifestazioni. Allora che dire, elettroludica abbiamo esplorato questo campo veramente particolarissimo e insolito per questo territorio che è l'intrattenimento elettronico, quindi con Fabio Rubeo non ci aspetta che arrivare il 26 e il 27 di giugno e finalmente degli incontri dove possiamo dire si gioca. Sì, è un incontro dove si gioca, dove vi invitiamo a venire in pieno divertimento, dove troverete anche gli altri membri dell'associazione, del consiglio direttivo, il presidente Alessandro Berardino, il direttore del museo Eric Pede e tutti gli amici che ci stanno dando una mano in questo momento con veramente tanti incontri e veramente tante conferenze. Spero che Avezzano e la Marsica apprezzerà il nostro sforzo che dura ormai da 5 anni. Apprezzerà anche perché ha bisogno di vita e sicuramente con i giovani questa vita la potremo constatare. 26-27 giugno 2021 dalle ore 10, come mancare a un appuntamento così particolare? Grazie. Grazie a voi e ricordate che per le norme Covid, per tutte le conferenze e gli eventi musicali è preferibile la prenotazione perché i posti a sedere sono obbligatori. Grazie.